I carabinieri di Castelnuovo Garfagnana hanno partecipato alle indagini che hanno portato alla cattura di una donna sulla quale pendeva un mandato di arresto europeo e che è stata fermata questa mattina in Spagna. L'accusa per lei è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La 51enne è ritenuta responsabile della distribuzione di dosi a diversi spacciatori della Valle del Cerchio e da tempo si sottraeva a un ordine di espiazione pena emesso dalla Procura di Firenze a seguito di una sentenza definitiva del Tribunale. L'indagine, iniziata ben 20 anni fa e condotta dai militari della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, coordinati dalla Procura di Lucca, ha consentito di identificare la donna quale fornitrice di giovani pusher della Garfagnana che si dedicavano all'uso e allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Attività illecita per la quale nel corso delle indagini sono state arrestate sei persone perché trovate complessivamente in possesso di 200 pasticche di ecstasy.